La situazione a Cavodiotti è che stiamo cercando di mettere in sicurezza la diga perché evidentemente le portate che sono transitate in questi giorni l'hanno posta in grave difficoltà. Comunque sia dal 5 di novembre che stiamo scaricando il massimo della portata dal lago di Pugliano possibile e questo ovviamente per cercare di bilanciare le esigenze del lago e le esigenze della valle che quest'anno si è subito degli avidani. La situazione attuale è che ci stiamo preparando per una nuova pioggia quella di domani che dovrebbe essere l'ultima e quindi stiamo mettendo in protezione la pista di accesso a quello che erano una volta le ture e che sono state smantellate il 5 di novembre e adesso delle ture è rimasta di fatto un diaframma assolutamente permeabile che consente proprio il passaggio della massima pietra. Attualmente non ci sono problemi per eventuali risondazioni del lago e il cantiere è posto in sicurezza.